...quanto sedita, mi sta sperando un sacco di soldi... Oh, mi raccomando, oggi portate voi le pallette, perché l'altra volta me l'avete fregato, va bene? A viveremo oggi, ciao, ciao! Papà, papà! Ciao papà, oggi il professore mi ha interrogato e ho risposto veramente bene, papà! E che ti ha chiesto? E mi ha chiesto come mi chiamavo? E gli ha detto di chi sei figlio? Perché, di chi so figlio, papà? De la mia! D'assassino, molta macchina, delinquente! Allora, signora, vorrei spiegare...